Commozione e tanto rispetto per chi purtroppo quella maledetta mattina del 24 gennaio 2017 perse la vita sul monte Cefalone, mentre era intento a prestare soccorso ad uno sciatore rimasto coinvolto in un incidente sulle piste da sci a Campo Felice. Si sono concluse ieri sera sulla pista della Brecciara, proprio a Campo Felice, le celebrazioni per il settimo memorial dedicato al dottor Walter Bucci, all'infermiera Giuseppe Serpetti, al tecnico di bordo Mario Matrella, Davide De Carolis e al pilota Gianmarco Zavoli che trasportavano Ettore Palanca, soccorso proprio nell'incidente sulle piste da sci. Una fiaccolata lenta e silenziosa organizzata dal Soccorso Alpino e Spirologico d'Abruzzo proprio a commemorare le vittime di queste immane tragedie arrivate a soli sei giorni da un'altra sciagura costata la vita a 29 persone all'hotel Rigopiano di Farindola. Tante fiaccole che nel buio più assoluto sono scese per poi raccogliersi in un minuto di silenzio rotto solo dall'applauso commosso di chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per salvare gli altri. Ricordiamo tutto l'equipaggio del soccorso che in quel giorno purtroppo ha perso la vita e quindi i nostri amici compreso Ettore Palanca che era la persona soccorsa. È un giorno importante e bisogna ricordare, bisogna tenere sempre vivo il ricordo del loro lavoro, di quello che facevano ma anche quello che ci hanno lasciato. Quindi queste giornate ormai da un po' di anni si sono trasformate anche in un momento informativo, formativo. Con questa fiaccolata che vuole essere un omaggio a tutti quelli che ci hanno lasciato perché è importante che rimanga nella memoria non solo il dolore ma anche quello che poi deve essere il messaggio. C'è la cultura della sicurezza in montagna, delle cose che dobbiamo sempre imparare, delle nuove tecniche e soprattutto trasferire alle persone questa cultura della sicurezza e dell'imparare ad andare in montagna.